Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Tecne, agenzia Dire, Monitor Italia, sulle intenzioni di voto politiche nazionali. Astensioni incerti 41,5%. Fratelli d'Italia primo partito perde lo 0,5 ed è al 29,5, il PD guadagna lo 0,2 ed è al 19,8, il Movimento 5 Stelle perde lo 0,5 al 15,2, Balzo di Forza Italia del 3,5% in più ed è all'11,8, la Lega di Salvini perde lo 0,6 ed è all'8,4, Azione di Calenda scende dello 0,5 ed è al 3,5, Italia Verdi sinistra al 3% stabile, Italia Viva perde lo 0,4 al 2,5, Europa Emma Bonino perde lo 0,3 ed è al 2%, gli altri partiti messi insieme sono al 4,3%. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.